Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto in studio Alessandro Ranieri. Furto nel fine settimana in un'abitazione di San Silvestro, i malviventi hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per entrare in un appartamento al piano terra. Dopo aver forzato una finestra con un piede di porco, i ladri sono andati alla ricerca di denaro e preziosi poi si sono dati alla fuga dalla stessa finestra. Rientrati intorno a mezzanotte i proprietari hanno scoperto il furto e hanno allertato la polizia. Sporta la denuncia e il bottino non sarebbe di grande valore. È stato ormai soprannominato isolotto l'accumulo di ghiaie e detriti che nei periodi di secca del fiume Misa risulta ben evidente nei pressi della foce, un fenomeno che preoccupa i senigaliesi che temono che in un'occasione di piogge di rilevante portata il fiume possa trovare un intralcio al suo naturale scorrere verso il mare. Diverse le discussioni sui social tra ironia e preoccupazione, tanto che qualcuno ha deciso di rivolgersi al sindaco per avere chiarimenti in merito alla pericolosità del fenomeno. Risposta del sindaco che non si è fatta attendere. Considerata la situazione venutasi a creare la foce del Misa e le effettive difficoltà riscontrate dovute a problematiche tecniche e operative, ha detto Mangialardi. L'ufficio preposto sta valutando quale sia la soluzione migliore per liberare l'alveo dalla massa di ghiaie e detriti che ostruisce il normale e regolare flusso delle acque. Vista l'importanza dell'operazione, confido che i tempi per la sua realizzazione saranno davvero ristretti. Hanno preso il via ieri mattina i lavori al parcheggio della stazione di Senigallia in Viale Bonopera. Si tratta dei lavori di ampliamento del parcheggio della stazione che, sfruttando anche parte del capolinea dei bus, porteranno alla realizzazione di 51 stalle di sosta per auto. I lavori, attesi da qualche tempo, ampliano l'offerta di parcheggi nella zona del centro storico e sono realizzati dalla ditta Incobit Sud di Ancona. Dei 51 parcheggi, tre saranno dedicati ai disabili, tre alla ricarica per i veicoli elettrici e quattro riservati alla RFI. Sabato 19 gennaio è stata una giornata indimenticabile per il comune di Arcevia. Per esso il teatro Misa, colmo di gente entusiasta, si è svolto l'incontro con un uomo straordinario, Gino Strada, fondatore di Emergency. Dopo la proiezione di un documentario che testimonia l'attività di Emergency in Sudan, Gino Strada è stato intervistato. Ha voluto sottolineare come gli scenari di guerra siano complessi e come ci sia il bisogno e il dovere di accogliere i migranti che fuggono da situazioni drammatiche. Il sindaco di Arcevia, Andrea Bonprezzi, intervenuto alla fine della manifestazione, ha stretto la mano a Gino Strada e ha ricordato come Arcevia nel suo piccolo stia realizzando da anni una serie di progetti di integrazione tra migranti e comunità. Saranno firmate dai parrucchieri di Confartigianato le acconciature dei cantanti del Festival di San Remo. Roberto Acquaroli, parrucchiere del Salone Purparlè di Senigallia ed Emanuele Vecchioli, tricologo di Loreto, saranno infatti nello staff di Casa San Remo, backstage e centro eventi del Festival Canoro. Con mozione unanime a tre castelli per la scomparsa di Rosella Angelucci Bellucci, stroncata a 47 anni da un mare incurabile, laureata in lingue e stimata insegnante e Rosella, abitava a Monterado di Trecastelli, lascia il marito Stefano Bellucci e una figlia di 21 anni. L'insegnante è ispirata all'ospedale di Senigallia. Con questo è tutto da Alessandro Ranieri, buon proseguimento d'ascolto.